buongiorno sono maria chiara russo product manager di marca corona l'azienda ceramica più antica del distretto di sassuolo questo breve racconto narra della bellezza della natura e di come la si può portare in casa tramite design dello spazio immaginiamo di passeggiare in un bel giardino ed imprimere su una tela l'intensità dei colori e delle forme che vediamo poi usiamola per adornare le pareti proprio come i tessuti e dipinti che con il fascino esotico del floreale decoravano le ricche abitazioni di un tempo questa è la storia della collezione lily suite una leggera trama che fa da fondo con i suoi rilievi morbidi al tatto è stata tinta con sette nuances tutte interpretate sulla mini lastra 50 120 un formato rettificato semplice da movimentare poiché in pasta bianca questa dimensione aiuta a perdere l'effetto fuga e a dare soluzione di continuità ma allo stesso tempo è facile da portare in casa come un quadro impressionista il decoro villa con le sue sfumature calde e fredde ci riporta in un giardino che muta il biloba diventa prezioso con l'uso della graniglia a spessore decori e tinte unite posizionati in maniera strategica delimitano lo spazio e lo arredano adatti sia alla posa orizzontale che verticale si possono usare per valorizzare le pareti o sottolineare alcuni angoli anonimi in una stanza abbinati a legni effetti materici pietre o marmi renderanno accogliente il contesto interno e ci faranno sentire immersi nella bellezza di un giardino grazie a tutti per l'attenzione a presto grazie a tutti grazie a tutti